Segretario, ieri un incontro in piattaforma con il Presidente della Regione Marco Marsiglio per parlare dei fondi europei 2021-2027, la nuova programmazione. Quanto è importante spendere e spendere bene questi fondi? Sì, innanzitutto il tema è di primaria rilevanza perché le uniche risorse che la Regione Abruzzo ha per fare degli investimenti e modernizzare la Regione sono proprio i fondi europei, quindi da questo punto di vista la programmazione 2021-2027 è fondamentale. Abbiamo tante risorse e noi su questo abbiamo indicato delle priorità. Innanzitutto la priorità del lavoro e dell'occupazione, cioè tutti gli interventi che verranno messi in campo devono avere un forte impatto sull'occupazione e sul lavoro. Dopodiché dobbiamo creare una Regione che sia attrattiva per le persone e per le famiglie, quindi lavoro innanzitutto, ma anche welfare, salute, ambiente. Per fare tutto questo abbiamo la necessità di operare una buona programmazione, ma anche dobbiamo mettere in campo una capacità di spendere queste risorse in tempi molto rapidi. L'Abruzzo è una delle ultime Regioni su molti assi per la spesa europea. Avere tante risorse e non spenderle, ovviamente come potete capire, è un'occasione mancata. Per fare questo ci sarà necessario di rafforzare fortemente la governance della macchina amministrativa regionale e non solo regionale perché in questa programmazione poi saranno coinvolte anche molte amministrazioni locali. Ultima questione che abbiamo posto al Presidente Marsilio è quello di creare e di individuare degli assi strategici. Non vorremmo che, come è stato fatto troppe volte, tutte queste ingenti risorse si perdono in mille rivoli senza andare a colpire al cuore dei problemi della nostra Regione, che sono l'innovazione digitale, che sono le infrastrutture, che sono una vera transizione energetica e ambientale, che è un nuovo welfare. In questi giorni la pandemia ci sta insegnando come avere un buon sistema sanitario, un buon sistema sociale che curi le nostre persone, i nostri anziani, i nostri disabili e tutte le persone, tutti i cittadini sia assolutamente fondamentale.